Saluto tutti e sono molto contenta di iniziare questo servizio e ho voglia di un po' mettermi in gioco e scoprire anche cose nuove. Inizio un po' con qualche paura, qualche timore, perché è anche un impegno molto importante, però ho anche tanta voglia di iniziare, di buttarmi un po' in questa esperienza, quindi c'è anche tanto entusiasmo e tanta gioia di iniziare. Quindi sono molto contenta. Credo che il giovane per la missione, ma anche per tutta la Chiesa, sia fondamentale proprio perché per il suo entusiasmo, perché ha veramente voglia anche di mettersi in gioco, di cambiare, di scoprire cose nuove, ma anche di scoprirsi. Quindi credo che il potenziale di un giovane sia veramente importante.